1895 Non è mai dimenticare che la ricchezza prodotta ha come fine ultimo il miglioramento della qualità della vita, il benessere e la felicità delle persone. In oltre 110 anni di storia, dal primo sportello di Quattro Stanze al secondo piano di Palazzo Pianciani, Bontastrata è stata fatta dalla nostra banca. Nei primi mesi del 2007, dopo l'inaugurazione dello sportello di Chiusi e di quello di Riterbo, l'11 maggio viene inaugurata la centesima sede operativa a Santa Maria degli Angeli. È il raggiungimento di un trattato di squadra, dichiara in media il presidente Giovanni Antonini. L'evento è stato festeggiato con la partecipazione di tutti i dipendenti durante una coinvolgente serata che ha avuto come protagonista Enrico Pignano dal teatro di Ritmi Assisi. in un'enginezione di unright la seconda scena, una sera pergovarsi. L'evento avrete il positivo che ogni tempo è senza iniziato a scelterare il unchecko di uno sportello, è vero? Giusto? metteci a scelterare? De uno sportello e Romagna di Palazzo? Ok. E allora ho visto che tenere allo sportello Cap종i da Ragazzi non vanno arbetto in uno sportello. EECCHI come potessi vedi il nostro Tempo, ma adesso il nostro cambiare è che... un traguardo tutto al coronamento